Ieri pomeriggio ha sistemato... Non lo so chi ha usato come in aria. Dottor Prodius, anche a tutti quanti, abbiamo pensato di non fare la festa con pasta e con dolcino, perché è troppo caldo e poi dobbiamo prendere le cose. Abbiamo fatto... È stata la dottoressa Pinelli che le ha corrompe. Abbiamo fatto dei pensieri che... L'uno è per i fisioterapisti che abbiamo ottenuto in mente, è un computer. Contattive. Con un altro particolare, così spediamo tutto. L'altro abbiamo pensato che sia il personale, sia voi medici, che i fisioterapisti prendete tanti caffè. Però abbiamo tutta una macchina particolare che fa un caffè buonissimo, che ve lo tenete, che non lo sapevano finire, che fa il caffè. E poi, stando qui su questi poltroni rossi, abbiamo detto questa frase di poltroni rossi. E noi abbiamo fatto un'altra frase. Voi tenete il linguaggio lungo, largo, lento. Noi abbiamo fatto quattro città, consapevolezza, conoscenza, coraggio, condizioni. Questo per lei. Sì, grazie mille. E gliela legge la nostra amica Toscana. Stando seduti sopra di voi, tra amici rilassati, abbiamo condiviso la ricetta con cui, l'ora e poi, o in creatività, andremo alla missionista del mondo. La legge delle quattro città, consapevolezza, conoscenza, coraggio, condivisione. Le magie di novità. Di questa meravigliosa orchestra, composta da tanti elementi, che è specialmente diretta dall'amico Franzita, e abboniteranno il nostro pubblico. Sendo che tutte queste cifre, farla leggere una Toscana, ha fatto apposta con le cifre. Io non so veramente, siete emozionanti, tutte queste cose. Non so se ci meritiamo tutto questo affetto, veramente... Più che parenti siete ormai, non so, è una cosa emozionante. Siamo noi che ringraziamo voi per queste emozioni che ci date. Ciao io, ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Con i braccialetti bianchi, cosa facciamo? Andiamo a farci il caltetto. Un'immagine di gruppo. Con tutti i braccialetti sollevati, i braccialetti bianchi. Grazie mille. Mi dispiace questo caldo. Con tutti i braccialetti bianchi sollevati. Sì, e in tre anni, questo è il primo anno che... Tutti a un lato. Tutti con lo scontrino perché la garanzia... E tutti con il braccio. Siamo nei braccialetti bianchi. E' il dato? No, ti sarà lento. Perché la garanzia è lo scontrino. Certo. Grazie mille. Procuraci un armadio con le chiavi. Così, perché c'è la garanzia? Cioè, no, beh, sicuramente dobbiamo... Chiuderlo a chiavi. Cominiamo il mondo di armadio in giù. L'ultimo che ha... Non metterlo in armadio giù. Va bene. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Tutti con voi. Pensiamo così a un latino. E se non c'è la garanzia? Ecco. E se non c'è la garanzia? Senta le... Un po' di sanno o su una picchetta mia oltre? Sì. C'è il tuo... C'è il tuo... C'è il tuo... C'è il tuo... C'è il tuo...